Ti ricorderemo così con il tuo sorriso e con la tua voglia di vivere. Uno dei colleghi che ha lavorato fianco a fianco con Mirko Vicari, l'agente della Polizia Municipale trovato morto nel suo appartamento in via Scillato, così lo ha voluto ricordare alla fine della celebrazione. Un forte applauso è recheggiato nella chiesa di San Giuseppe a passo di Rigano a due pasti dal comando di Polizia Municipale di Via D'Ogali. La chiesa è gremita a celebrare la funzione da un Filippo Sarullo, cappellano della Polizia Municipale, tra i banchi familiari disperati e le istituzioni, con in testa il sindaco Lio Luca Orlando e il comandante della Polizia Municipale Vincenzo Messina. Tantissimi colleghi che lo hanno voluto ricordare. Sul fronte delle indagini l'autopsia non ha chiarito cosa è realmente successo all'interno dell'appartamento, non ci sarebbero segni di colluttazione, un solo proiettile sparato con l'arma probabilmente della gente trovata per terra, un colpo dall'alto verso il basso che non ha lasciato scampo a Vicari. Mirko era uno di noi prima di tutto, un collega e un ragazzo sempre disponibile e attento a tutti i bisogni dei colleghi e della cittadinanza perché faceva il suo lavoro con passione e con orgoglio, contento di essere e far parte del colpo di Polizia Municipale e da padre di famiglia in tutti i sensi e in tutte le sfaccettature della parola. Mirko ci lascia un ricordo di una persona dolce e disponibile, di una persona che non si è mai tirata indietro davanti al suo dovere e che non ha mai guardato le difficoltà di questo lavoro. Io spero che i suoi figli lo ricorderanno così come un papà che ha dedicato la sua vita al lavoro e alla sua famiglia e noi questo vogliamo ricordare di Mirko.